Da un lato i problemi riscontrati dagli studenti diretti verso i principali poli scolastici, con l'evidenza del bisogno di ulteriori investimenti nel settore del trasporto pubblico e dall'altra la necessità di porre un freno agli atti vandalici, costati a 3 nord 8 milioni di euro nel 2021. Sono i temi affrontati dal tavolo scuola trasporti convocato dalla prefettura anche per conoscere i risultati dello studio effettuato dalla consulta provinciale degli studenti sul sistema del trasporto pubblico scolastico attraverso un sondaggio che ha coinvolto circa 2.700 ragazzi. Dallo studio è emerso che gli studenti diretti verso i principali poli scolastici di Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Tirano e Bormio adoperano in prevalenza l'autobus, per il 20% l'automobile e per il 16% il treno. I maggiori problemi riscontrati riguardano il rientro al pomeriggio, la carenza di corse e le coincidenze sconvenienti. È stata sottolineata ancora una volta l'importanza di continuare ad effettuare investimenti nel settore del trasporto pubblico locale sia su gomma che su rotaia. E a riguardo il presidente della provincia, Elio Moretti, ha ricordato di aver segnalato attraverso l'Unione delle Provincie Italiane la necessità di completare il raddoppio della linea ferroviaria esistente e porre le basi per realizzarne un prolungamento sino a Bormio. Intervento quest'ultimo, strategico e in prospettiva delle Olimpie di Milano-Cortina. Il rappresentante di Trenord ha confermato tali progetti e è fatto presente come siano già stati introdotti sulla linea nuovi convogli ferroviari ai quali si aggiungeranno altri 10 nei prossimi due anni. Allo stesso tempo però ha fatto presente come per il solo anno 2021 siano stati spesi da Trenord 8 milioni di euro per lavori di ripristino dei convogli danneggiati da atti vandalici. A tal proposito il prefetto ha annunciato la volontà di dare vita a un gruppo di lavoro per fronteggiare il fenomeno del vandalismo, espressione talora del disagio giovanile, invitando a partecipare i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti.